Chi l'anno prossimo, e qui mi riferisco ai nostri amministratori, chi l'anno prossimo avrà il coraggio di mostrare la faccia e di dire scusateci ma sapete per delle leggeri incomprensioni e leggere dico non è aperto. Chi? Io non voglio essere al posto di questa persona, però con quello che abbiamo fatto e faremo con questo comitato tutti noi avremo la coscienza a posto. Maria Rosa Zanotto, capodelegazione del FAI di Bassano, il Fondo per l'Ambiente Italiano e uno dei membri del comitato formatosi su iniziativa di Rete Veneta per riaprire il Tempio Osario, una battaglia che l'associazione da sempre vicina alla tutela dei nostri monumenti intende condurre fino in fondo. Quello che mi ha stupito ed amareggiato è la frivolezza del perché tiene chiuso questo monumento nazionale, specialmente in un momento così storico e importante come adesso che siamo vicini ad un centenario importante. Cosa intende per frivolezza? È una mancanza totale di responsabilità da parte di qualcuno, ma io faccio un appello a questo qualcuno che può essere un amministratore uomo o donna futuro che avremo a Bassano, un amministratore regionale e arrivo fino al ministro, alla signora ministro di Roma. Quando sento che mi si parla di antisismico, un palazzo del genere, ma allora dico signori chiudiamo le scuole, chiudiamo le università, chiudiamo gli ospedali, e chiudiamo anche i ministeri a Roma. Allora 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 Allora